Eccoci, buona domenica, sono sempre Roberto Mabassei e benvenuti al nostro incontro settimanale con la magia. Oggi ci servono solamente due braccialetti, io ne ho presi i primi due che avevo in casa, quindi un elastico per capelli e il braccialetto quello della Lega Italiana Fibrosicistica, ma vanno bene anche due elastici, due cordini per i capelli. Allora, si incastrano pollice indice il primo e, facendolo passare sotto, pollice indice il secondo, ok? In modo che sono incastrati. Ora, quando si tira, ok, in questa maniera, i due elastici, uno passa attraverso l'altro, così, e quando, puff, cambiano, ok? Come si fa? Semplicemente, come ho detto prima, pollice indice il primo, pollice indice il secondo, ok? Quando si tirano, quando si tirano, ok, c'è un attimo in cui il medio, il medio, opla, il medio entra sotto e cambia, e l'indice lascia andare, così, così, entra sotto e cambiano posizione, si staccano i due elastici. Bene, buona domenica e buona continuazione, ciao!